cari amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi porta alla vostra attenzione due notizie sulle quali meditare profondamente perché solo così si potranno cogliere a pieno tutte le implicazioni partiamo dalla prima due estremisti islamici entrambi di 20 anni sono stati arrestati il 25 marzo dalla polizia a parigi dopo che il procuratore li accusati di aver progettato di voler massacrare un asilo pieno di bambini così riferisce l'emittente rtl uno degli uomini coinvolti era noto alla direzione generale della sicurezza nazionale dgsi l'agenzia di intelligence interna della francia l'uomo che gli investigatori considerano la mente del complotto ha ammesso dopo il suo arresto che voleva entrare nell'asilo attaccare i bambini e poi tenerli in ostaggio fino all'arrivo della polizia a quel punto avrebbe tentato di uccidere gli agenti di polizia uno dei sospettati sembra che si sia ispirato al terrorista mohammed merà l'estremista islamico responsabile delle sparatorie di tolosa e montuban che nel 2012 aveva preso di mira soldati francesi insieme a insegnanti e bambini in una scuola ebraica una fonte vicina all'inchiesta ha anche detto a rtl che il principale indagato del complotto ha una forte instabilità psichiatrica oltre a segni di depressione narcisismo e tendenze suicide la dgsi osservava l'uomo dal 2015 dopo che era diventato sempre più vicino al movimento giadista radicale l'arresto è solo l'ultimo complotto terroristico sventato in francia lo scorso ottobre il ministro degli interni francese christophe castaner aveva affermato che le autorità erano riuscite a sventare cinque gravi attacchi terroristici nel solo 2018 questo episodio lascia aperti vari interrogativi vi leggerò con piacere nei commenti la vita di julian assange è in pericolo nelle scorse notti ci sarebbero stati dei tentativi di entrare nell'ambasciata ecuadoregna a londra attraverso qualche finestra lasciata inspiegabilmente aperta non si sa da chi questo è quanto è stato rivelato da wikileaks e che lascia pensare a un possibile tentativo di attentato nei suoi confronti assange avrebbe detto di essere consapevole di correre il rischio di essere assassinato non è uno scherzo è un affare serio avrebbe dichiarato assange vive all'interno dell'ambasciata dell'equador di londra dal 2012 quasi come un recluso da quasi sette anni qui ha trovato rifugio dopo essere stato sottoposto dalla polizia britannica a interrogatorio ma prima di venire consegnato alla magistratura svedese che lo aveva incriminato per violenza sessuale assange ritenendo che l'accusa era un pretesto per consegnarlo agli americani trovò silo presso l'ambasciata dell'equador a londra grazie all'allora presidente raffaele correa che gli concesse addirittura la cittadinanza ma ora che correa non è più presidente dell'equador e gli è succeduto lenin moreno le cose sono profondamente cambiate inizialmente moreno ha costretto assange a non ricevere più le visite dei giornalisti stranieri per poi arrivare ad impedirgli la comunicazione via web con cui si manteneva in contatto con la sua organizzazione a completare il quadro persecutorio giovedì scorso si è diffusa la notizia della sua imminente espulsione dall'ambasciata se l'equador espellerà julian assange dall'ambasciata di londra violerà la propria costituzione la cosa di una certa gravità in quanto il presidente moreno è ben consapevole di un possibile complotto per uccidere assange questo è quanto ha riferito wikileaks riportando la testimonianza alla corte del giornalista e questo possiamo leggerlo anche su rushantoday.com l'articolo 79 della costituzione ecuadoriana garantisce che in nessun caso sarà concessa l'estradizione di un ecuadoriano ha detto assange alla corte ecuadoriana il 29 ottobre quando ha chiesto il ripristino della possibilità di comunicare via web assange difende il suo diritto di rimanere nell'ambasciata dopo aver ottenuto asilo e successivamente cittadinanza e accusa il governo di lenin moreno di piegarsi alle pressioni degli stati uniti che vogliono la sua estradizione per aver rivelato al mondo alcuni degli sporchi segreti di washington tra cui le migliaia di mail di un ex militare americano chelsea manning sui crimini di guerra dell'esercito americano in iraq e altre parti del mondo il fatto che un governo controlli un particolare spazio non significa che possa violare la sua costituzione né può violare i diritti imposti dall'onu né punire senza un regolare processo ha detto assange alla corte rivelando di aver ricevuto minacce contro la sua stessa vita nonostante la smentita dell'ambasciata ecuadoriana londra il wall street journal ha riportato l'entusiasmo che avrebbe contagiato il dipartimento di giustizia americano riguardo la prossima consegna di assange alle autorità britanniche futuri custodi temporanei dello svedese una remora però blocca gli stati uniti che si macchierebbero pubblicamente di violare i diritti umani e la libertà di stampa questo in un momento in cui muovono proprio le stesse accuse alla russia d'altra parte nessuno crede alle accuse mosse ad assange per atti di violenza sessuale rimanebbe peraltro chiara agli occhi del mondo occidentale l'intenzione di punire assange per aver rivelato segreti inconfessabili per la valutazione degli stati uniti per gli usa già è stato difficile da far digerire all'opinione pubblica il caso di edward snowden rifugiatosi in russia da molti anni e accusato di aver rivelato al mondo intero i sistemi di controllo e di ricatto dei servizi segreti americani che utilizzano per minacciare sia gli avversari che anche gli alleati assange e snowden entrambi dissidenti americani ma con la differenza non da poco che snowden ha trovato riparo dalla vendetta statunitense sotto la potenza russa mentre assange rimane in balia di un governo l'equador compiacente per debolezza e convenienza agli stati uniti cari amici iscrivetevi numerosi al canale dentro la notizia aiutateci a diffondere i video e se lo desiderate potete sostenerci con una donazione un abbraccio dal vostro robin